www.feyyaz.tv 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 Grazie! Buongiorno! 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 Stai pensando? Invece devi difendere! Devi soltanto difendere! Difendi, difendi! Buongiorno! Muovila un po' e se ti piace la gamba porta da ferma! Il problema siamo sopra! È lei che deve recuperare la distanza! Muovila anche da ferma! Buongiorno! Non andare! Gamba da ferma se vuoi! Brava! Brava! Non andare ecco! Gamba da ferma! Buongiorno! Tieni! E' piano! Va beh! Garbo! Stai uscendo, Franco! Spinge la liga! Regamba! Stai uscendo! Stai uscendo! Stai uscendo! Stai uscendo! Spingi! 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 Lì! Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.